Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come state raga? Fatemelo sapere nei commenti Oggi andremo a fare un troll epico Nella mia community di youtube ho scritto Vi sfido in parco giochi, aggiungetemi gli amici Il primo che entra lo sfido Quindi ragazzi, entrerà un iscritto a caso E faremo finta che dobbiamo fare qualche fight in parco giochi, così tranquillamente Ma cosa succederà poi? Durante il primo fight o il secondo, poi vediamo Farò finta che mi arriverà una chiamata Indovinate da chi? Da ciccio gamer Allora, io ce la metterò tutta ragazzi Per rendere credibile la chiamata Quindi farò finta che ciccio mio amico, no? Li dirò ciao Mirko, eccetera eccetera E cosa succederà? Farò finta che lui mi chiede Di giocare con lui in live la sera su twitch Perché Yure e Sol non ci sono Però attenzione ragazzi Faremo anche finta che vuole subito fare una squadra di riscaldamento E se ho un amico da portarli E quindi velocemente, di fretta Dirò l'iscritto se vuole venire velocemente perché ne manca uno Quindi ragazzi, vediamo cosa succede Arriviamo a 1000 like per questo scherzo epico Direi che possiamo andare Bella, hai letto il post in community che sfidavo gli iscritti su parco? Sì Sei pronta a fare la sfida su parco? Va bene Vai, let's go Dai, 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 dai Ti voglio carico eh Se giochi bene finisci in un video eh Ah, e 10 partiamo Due scale Due scale ci giriamo, non 3 eh No, stai anche in alto, stai anche in alto vai A 10 partiamo eh Ok Vai, vai, vai Ti voglio carico eh Sì, già si è salito Sì, io sono sopra Io sono sopra Non ti vedo Non ti vedo Eccoti là Aspetta, aspetta un secondo, aspetta un secondo Sì, sì Aspettate, aspettate Mi stanno chiamando Tranquilla, io sono fermo qua davanti a te Pronto Sono quel piccone Mirko? Ma scusa, che ora fai la Levi stasera? 8 e mezza, ok Come non ci sono? Perché non ci sono? Ma, ma scusa, Yuri aveva detto che c'era stasera Ah, lui è partito E quindi te ne mancano due? No, dai, non ci credoci Non ci credo No, così mi fai morire, zio No, ci, ti prego, no Posso giocare anche stasera? A che ora? 9? Ma scusa, ma la live Ah, perché prima mangi il live, ok, ok Alle 9, no Ti giuro, mi sento male No Dimmi se non mi stai prendendo in giro, ti prego Ma sei serio? 10 minuti Ah, e beh, sì, certo Eh, un po' di squadra, sì, ci scaldiamo Eh, ma io un altro non so se lo trovo Quello del mio clan adesso sta facendo il torneo Posso io? Se vuoi Stanno facendo il torneo Eh, porca miseria, ma dove trovo Eh Bro, tu volendoci sei? Dimmi di sì, ti prego Ti prego, è importantissimo Tu, ma volendoci sei per giocare? Sì, sto parlando con te Dimmi veloce, dimmi veloce Sì, sì Ok, sì, forse, forse non ho trovato uno Forse non ho trovato uno Dai, te lo giuro Bro, ma è ciccio gamer No, no, Mirko, sei un pazzo, Mirko Va bene, va bene Bro, ma è ciccio gamer Bro, ma è ciccio gamer Sì, sì, è lui, è lui Allora Me lo saluti, ti prego, ti prego, ti prego Come ti chiami? Come ti chiami? Alex, Alex Ti saluta, ti saluta Alex Si chiama Alex Allora che ti saluta Dai, allora ci sentiamo tra poco Chiamami, chiamami appena ci sei Chiamami appena ci sei Oh zio, non ci Mi sento male Mi sento male Mi sento malissimo Mi sento malissimo Aspetta, aspetta un secondo Cazzo, ciccio gamer 89 Quanto vorrei giocarci con lui Guarda, tanto ne manca uno Se vuoi venire giusto adesso Farti due, tre squad Con me ci Dimmi te Per me va benissimo Allora, la cosa importante La cosa importante Vabbè, adesso te la spiego Dai, facciamo un fight Perché zio, dobbiamo scaldarci Dove vedere come giochi Allora, la cosa importante È che non gli fai domande Domande Chi li rompono le balle Capito? Vabbè, non è che devi stare zitto Puoi parlargli adesso, ciccio Però, capito Cioè, nel senso Tranquillamente, capito Senza dirgli Oddio, ciccio Perché a lui gli dà fastidio Quelle cose Hai capito? Oh, ma come hai fatto, bro? Non lo so Ti ho tirato tre HS Sono strazittato Eh, ci credo E sto dicendo Oddio Ma siamo in serie Che sto giocando Come youtuber Sto giocando poi 15 minuti Vai, vai, vai Scaldiamoci, scaldiamoci 25 partiamo Tanto, te l'ho detto Non è che devi giocare Come i rankings Basta che te la giochi Un attimo Un attimo Diciamo bene Dai Madonna, io sono troppo Emozionato, bro Però, io sono troppo Emozionato Bravo Bravo Sto giocando così Va bene Ah, si è caduto? No, sono riferendo adesso Ok, bravo Che riprendi l'altezza Dai, bro Dai, bro Forza, forza Bravo, bravo Bello carico Bello carico Bello carico Bello carico Ti voglio Io sto finendo i materiali Eh Bravo Dai che facciamo un bel figurone Con ciccio Cavolo Dai, io sto finendo i materiali Eh, siamo al limite No, siamo al limite Dai, vabbè Non male, non male Dai Ti vedo abbastanza carico Dai Guarda che anche se giochi così va bene Dai, tanto Ciccio non vuole Che fai chissà che giocate Capito? Bro, guarda che tra tipo 5-10 minuti Mi chiama, eh Quindi probabilmente l'ultimo Quindi Dai, scaldiamoci bene Dai, bro Forza, forza L'ultimo Che poi giochiamo con ciccio, eh Vai 45 45 Forza, bro, eh Ma Vabbè Vabbè, dai bro Ci hai provato Ci hai provato Dai, ci hai provato No, usciamo, usciamo Perché tra 5 minuti Mi chiama ciccio Usciamo, usciamo, usciamo Andiamo, andiamo Bro, porca Capitano No, sei pronto Io non è che sono Te lo dico Sono un po' agitato, eh Oddio Oddio Mi rispondo, arrivo io Mirko Ok Eh, tra quanto ci sei quindi? Ok, stai accendendo? Ok, io sono qua con Il mio amico Sì, vabbè C'è il mio iscritto Ci, guarda che Siamo entrambi un po' agitati, eh Te lo sto dicendo Eh, va bene, va bene Guarda che giocheremo male Perché Io sono straagitato Eh, penso pure lui Vabbè, dai, sì Vabbè, sì, sì, sì Vai tranquillo Tanto lo sai che dopo un po' Mi passa e gioco bene E all'inizio avrò un po' di Di agitazione Ma anch'io Anch'io molto Comunque Ci è cascato in pieno Lo scherzo Sì, sì, sì Ci è cascato Ci è cascato Non c'è nessun ciccio gamer Era uno scherzo Bro, stavo scherzando No, ci hai creduto? Ci hai creduto? Un po' Quante c'è Allora, dimmi Dimmi se sembrava vero Io? Semmi un po' preso male No, 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 no Dai, ma è tanto Però basta che Dimmi, dimmi Ma basta che Basta che tu ci sei In che senso? Eh, tipo a me va bene pure te Ma in che senso? Basta che ci sono Come youtuber Che posso giocare Tipo anche una partita Sì, dai Adesso ce la facciamo una partita Dai, dai, dai Te la meriti Ragazzi Il video finisce qui Ditemi se vi è piaciuto Fatemi sapere se Volete che porto questa nuova serie Dove facciamo qualche scherzo O troll divertente Vi ringrazio per aver visto il video Ci vediamo Alla prossima live O al prossimo video Un saluto da vivo Ah ragazzi Mi raccomando Venite a seguirmi Alla prossima live